lui e lei si conoscono su questo divano lei lo invita a restare nessun disturbo il letto è già fatto la mattina lui se ne va grazie è stato facilissimo la sera torna ha lasciato le chiavi nel letto eccole ma già che ci sei e fermati anche stanotte moon l'unico divano che diventa letto tre volte in un solo spot al prezzo da saldi di 699 euro c'è anche il contenitore grazie